Musica Bella a tutti ragazzi e bentornati da Pianeta Hobby Sono sempre il vostro Mercat E oggi siamo qui in compagnia di Ciao a tutti allenatori, sono sempre il vostro Federico 95 Ita E siamo qui perché dobbiamo fare la seconda Versus La seconda Versus allenatori perché infatti sul mio canale pochi minuti fa è uscita la prima parte del primo box di Fighting Rainbow Esattamente allenatori Un box che ci ha dato già tante soddisfazioni devo dire Tante soddisfazioni Però dobbiamo trovare questo Charizard Il Charizard Hyper che ce l'ho qua, ce l'ho qua, ce l'ho qua in testa Vi dico la verità ragazzi non l'ho mai visto Ci avevo visto l'Ultra, il GX normale ma l'Hyper non l'ho ancora vista Non che dell'Hyper ci sia tanto da vedere dato che è bianca Però no, vabbè È sempre figa Esatto, abbiamo qui come al solito un po' di pacchetti che io andrò a dividere Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 per te e 6 per me Mercat ma ti propongo subitissimo uno scambio Io ti offro questa carta qua, c'è questo pacchetto E tu in cambio mi dai questo qua in mezzo Accetti? Va bene Non 2 1 però è Ok, tieni e lo andiamo ad aprire anche subito ok? Però anch'io gli faccio il tuo stesso scambio Ah, vai, ma quale vuoi, quale vuoi? Voglio uno di questi due, dici tu Questo tieni Ultimo di due vai Tieni, questo, io voglio questo Ok, quindi questo mi hai dato tu Ecco E questi li apriamo proprio alla fine, li apriamo ok? Quindi ricordi che questo mi hai dato tu Me lo ricordo, ti preoccupare E quindi niente Prima di iniziare ragazzi vi chiedo al minimo di lasciare almeno 500 like Minimo 500 like anche perché se no Se no quello di Necrozio qua non lo apriamo Poi ci abbiamo un Marshado of GX qua dentro che si fa spettare E poi la nostra lutta creatura non è così Mi raccomando Mi raccomando Inizia a spechettare subito Mercat Ok Anzi Tu inizio io Ok inizio, no inizio tu Quindi questi per ultimi inizi? Sicuro? Ok Facciamo, senti Leviamoci sta cosa Apri subito Facciamo uno per uno Questo è quello che ho avuto tu eh? Sì, apri mio Questo è quello che ho avuto io Apri mio a te e poi apro questi due io E poi inizi te No perché sono abituato a iniziare per primo sul mio Quindi ho sempre sta fissa, no? Quindi vai Chissà se ti ho dato il chai Io giuro Se poi dentro c'è il chai Io vi do il canale Lo chiudo, giuro Avete sentito ma ragazzi Attenzione No, vedo qualcosa Non va bene Non va bene No, io rischio Oh, maffette Questo non Nei nomi ragazzi No, vai 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 Aspetta piano Che se è l'hyper Mi vado a sparare Allora ti c'è Ok vai Oh Hai rischiato Il pilo e il plumo raga No raga c'è una possibilità su Cioè E poi ce ne vince il super nella lotta 50 Vai merca vai E questo invece è quello Che mi sono preso io Ah ti sei preso tu questo proprio No Sì Sì, sì, ti sei preso tu Lo sono preso io, sì Vediamo un po' Sì ci vediamo subito sta cosa raga che So curioso So curioso anch'io Cioè scusate Quindi Vediamo un po' Ok Vediamo se mi hai fregato la carta Crabbo indietro Mew Mew Sì Charmander Eeeh Hai pescato male Hai pescato malissimo Hai pescato che ue pescato Ma scusa ma io voglio vedere Un attimo qua Dietro cosa mi hai dato tu Perché Odore di Charizard Aspetta Voglio vedere proprio cosa mi ha dato merca Giusto per capire Poi vi incomincio Tutto i due pacchetti Vai vai Così così piango già Sì così piangi subito Ci leviamo sta cosa Merca Perché veramente Sennò poi soffrono Anche i nostri iscritti Azumeril Via Via Eeeh Eeeh Hai pescato male Abbiamo scambiato Sta tipa qua Del team skull Per Per Perché Perché Va bene Io ho anche questo Ma questo lo tengo alla fine Perché Lo tengo alla fine Io questo Ma anche perché qua dentro Ti ho preso proprio La hyper chives E se invece c'è qua dentro È la dentro Ti ho pescato male Allora Che te lo dici Vai 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 Io ho detto questo chives La hyper chives Mi piace troppo Mamma mia Ok In realtà dica raga Sempre di uno Ricordatevi Che in quel giapponese Così Poi mi ero fatto Talmente felice Alla uscita Revoluzione C'è la cia C'è la cia E sai che il drago E' tipo Vai vai La palestra Palestra Altra sclerata Altra sclerata Altra comune Altri cinque C'erano altri cinque Qua Io ti dico Sto O è bellissimo C'è proprio bello Poi c'è O c'hai stato insieme Nell'artwork Che ragazzi Belli Ma poi mi piace proprio il nome Rainbow C'è proprio bello Arcubalero Vai No ciao Scigna erba Mero 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 Oh però Bello Bello per Stardoc Ragazzi Ma come si chiama questo Oddio non me lo ricordo C'è anche la microevoluzione C'è anche la microevoluzione Questa cosa Mi si chiama Di Anzi Di Anzi Mamma mia ragazzi Flashback Altra cinquanta punti Io se no Ho un punto C'è un punto C'è cose con delle oro Delle oro Proprio Mi sa di Mi sa di Mmm Cosa abbiamo quella da trovare In questo box Tecnicamente Non spoilerare quello che cosa è mio Quanto c'è ancora Eh Forse una tua ancora Non so Secondo me c'è due GX E una Hyper Secondo me Non mi è una GX una Hyper Scoletta Dai bene E Una Oh 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 GX E le trovate Perché ora manca solo il Chainsawd per me però Eh E dai E ho GX Oh 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 E' bellissimo C'è raga L'altro che è stupido Oddio ma sta bello Voglio anch'io Merca Voglio anch'io È stato ultra però Grazie Grazie Quindi due punti per Merca Ma no Raga è bellissimo Sì Sì La devo ripeterla vicino Raga C'è Ma sta proprio di giapponese È proprio Un giapponese Un giapponese Un giapponese Raga Ancora dice Sukuyoi Vai Ultimo pack Ultimo pack Mi metto l'hyper Mi stranisco Io te lo dico Vai Ok Forza Ciao Ciao Milano Ok Ok Raga Raga Due punti per te Oh raga Ok raga Manca la hyper E possibilmente un'altra GX Oppure la ultra Oh la vuole Senneper Può capitare di tutto Ah io senti Mi levo sta cosa Pacchetto Pacchetto che t'ho preso a te Prima Merca Scusa ma Devo Quindi Scusa ma Devo 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 molto Merca Vai Paura Abbastanza Facciamo la decilazione di Harry Potter Paura Potter Malamar Udut Udut Non Oh oh Libere Signor Dex Annaggi Io ho Diorot Dex Poi trovarlo anche nei pacchetti Raga è una tortura Niente Quindi ho preso Diorot Dex Che Quella del team skull C'è scambiato i pacchetti I pacchetti più Praticamente I pacchetti più schifosi Ce li siamo scambiati Va bene raga C'ho ancora Quattro pacchetti Questo è il quarto Quindi andiamo a vedere Ficchettrozzo Come al bo Via Wow Buffett Pazziggio Mew Bion E C'è qualcosa C'è qualcosa C'è qualcosa Grazie Porca miseria 50 punti 50 punti Sono solo mezzo punto Mezzo punto Sì Mantì Madonna mia Oh C'è qualcosa L'altro mezzo punto C'è qua Non lo so Mi sembra di aver detto C'è qualcosa Di più Non c'è La c'è La c'è Sì L'altro mezzo punto Sì Mew Mew Eh Io L'altro mezzo punto Ancora E sei uno Dai Piano piano Uccidetemi Dai due pacchetti Due pacchetti Oh dai dai Non posso finire con mezzo Anche perché sto box Sarebbe una delusione totale C'è cavolo Niente Aircross RC Gloom Utut E Ah Niente Dai raga No eh No eh No Dai raga No dai Se perdo No 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 Merca Un hyper per favore Un hyper Ti prego Forse vado Quanti punti sto io Uno Uno Dai 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 Si Si Ah Il vincitore Merca Un punto e mezzo Raga Un punto e mezzo Ma se vuoi Già dai Vabbè Merca Congratulazioni E Niente Niente raga Ho vinto ancora Io Anche la versus Dell'altra volta Ti ricordi Sai che ho vinto io Merca Senti Io qua dentro ti disturbo Io qua dentro Trovo il mondo Trovo Merca Il mondo Trovo qua dentro Pinsana Adesso Lo scuro Merca è salito Lo scuro Pedic è un po' sceso Porca miseria raga Sto rosicando Vabbè Merca Congratulazioni Sto Charizard Non l'abbiamo trovato Quindi ne apriremo un altro No Scherzo Non ci so Magari Se lasciate un po' di piace Ragazzi Sicuro Se riesco a convincere il boss Magari ne portiamo un altro Ecco esatto E niente raga Mi raccomando Raggiungiamo i 500 like Così Vedrete anche Questa bella versus Tra me e lui Di questo bellissimo box Un mashado nel cuore Necrozma Io ho trovato necrozma Io un mashado Ok Quindi ci mettiamo già d'accordo Sì E niente raga Ci rivediamo un prossimo video Ciao raga Ciao Ciao